buongiorno web amici benvenuti a un altro video accreditandario oggi sono con la talaria come vedete qua xxx tl 2005 xxx oggi voglio farvi un video come vi avevo promesso e come mi avete chiesto veramente tanti su tiktok su instagram e su youtube per email mi avete scritto in tantissime veramente tanti come si fa a sbloccare questo mezzo cioè la talaria che sia la xxx che sia la tl 3000 alla 4000 il funzionamento è uguale quindi andiamo a vedere come si blocca perciò molto spenta ok andiamo a vedere dalla parte davanti la parte davanti che adesso l'inquadro molto bene che quadro c'è il controller tutte quante ce l'hanno qua quindi sia la 3.000 e la 4.000 lo vedete qua è proprio qua così io ho già sfidato le viti per fare prima adesso metto la telecamera qua e vi faccio vedere bene c'è una piccola differenza la talaria 3000 bisogna fare anche una procedura con il freno e l'acceleratore e lo start mentre la talaria 4000 e la xxx basterà solo tagliare un filo che adesso andremo a vedere allora una volta tolto le quattro viti quindi una due tre e quattro e poi una due e l'altra che vedete qui tiriamo tranquillamente giù questa plastichina molto semplice e facciamo venire giù questo ecco qua così perfetto ora come vedete qui dove abbiamo questi due connettori c'è un ponticello vedete quindi basterà tagliare il ponticello per fare un bel lavoro ovviamente lo andiamo a nastrare perfetto uno strato ben isolato andiamo a richiudere il tutto sbloccare l'ho sbloccata chiusa l'ho chiusa siamo pronti per partire e andare più forte ma mi raccomando usate con prudenza ci vediamo al prossimo video da credendario ciao ciao ciao